Allora, Gabriele Bernardi, Vitruvio parteciperà, è parte attiva di questa nuova manifestazione. Qual è il vostro ruolo e come mai avete deciso di abbracciare questa iniziativa? Beh, intanto Vitruvio fa parte della consulta della bicicletta. Ci occupiamo da anni di portare in giro turisti e cittadini a scoprire la città o a piedi o in bici, assolutamente. In questo caso, quindi, è stato praticamente uno sviluppo, un'evoluzione naturale partecipare e organizzare domenica mattina, quindi il giorno successivo rispetto al sabato Bici Senza Frontiere. Quindi la domenica presentiamo Bologna, porteremo in giro i tanti turisti, in questo caso i turisti di ciclo turisti che saranno a Bologna in questo weekend, con due percorsi. Abbiamo pensato quali dovevano essere, quali potessero essere le tematiche per presentare la città, le persone che magari la vedevano anche solo per la prima volta, o al tempo stesso a cittadini, a bolognesi che quel giorno hanno voglia di passare in famiglia o con amici una giornata diversa. Quindi due percorsi, anni Ottanta, in collaborazione con l'Associazione Vittime, strage 2 Agosto, Ustica e si parlerà quindi del periodo storico che si chiude con i fratelli Savi, quindi le strage della 1 Bianca. E quindi un momento storico molto toccante in collaborazione appunto con la Presidente Bonfietti, con i maggiori rappresentanti di questa associazione per sentire dalle loro parole a oggi, perché non parliamo di qualche cosa che è successo 30 anni fa, è qualcosa che sta succedendo ancora oggi. Sono storie non chiuse, sono storie non finite e quindi volevamo comunque porre l'accento su questo aspetto che ha segnato profondamente Bologna. E poi il secondo percorso, contemporaneamente la domenica mattina, la Bologna ha delle acque, quindi un percorso che parte dalla collina e ci porterà fino al canale Navile, al sostegno del Battiferro, toccando tutti i punti principali, punti più caratteristiche del centro storico, quindi un giro in bici che ci porterà a scoprire e a raccontare la Bologna delle acque.